Porta la tua attività sulla più grande web tv della provincia di Pavia. Mezzo milione di persone hanno guardato JAPTV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart tv a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot.japtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Simone Aventure, L'Aria d'Amico, Elio, Fedez, Luciano Alitizzetto e molti altri. Tante le star che l'altra sera erano presenti all'evento Sky Upfront che si è svolto al Teatro degli Archimboldi di Milano ovvero la presentazione dei palinsesti Sky per la stagione 2015-2016. Mai un'offerta televisiva così ricca tra digitali e terrestri, web tv, youtube, streaming online. A breve arriverà in Italia anche Netflix che permetterà di guardare legalmente serie tv e telefilm su internet. Ancora senso spendere minimo 19 euro al mese che è il prezzo base di premium e anche di Sky per guardare la televisione. Sicuramente la concorrenza al mercato dovrebbe fare bene. Ovviamente il mondo della televisione è un mondo molto particolare, ha dei budget tutti i propri, è influenzato molto dal mondo della pubblicità. Quindi io non me ne intendo molto di questi argomenti però sicuramente la concorrenza dovrebbe far sì che si abbassi i prezzi e non tanto che si alzi. Da consumatore, o da telespettatore, crede che la qualità dei programmi a pagamento delle pay tv sia superiore rispetto a quella free oppure no? Sicuramente la qualità risulta di ottima qualità. Le televisioni free ovviamente svolgono un ruolo fondamentale, l'hanno svolto anche storicamente, cioè quello di liberare appunto da qualsiasi laccio possibile la comunicazione e quindi benvenga che rimangano e che continuino a svolgere il loro ruolo. No, anche perché comunque già la RAI ci mette un canone non indifferente, quindi si potrebbe ridurre assolutamente sugli altri canali. Quindi lei dice già pago il canone, mettermi anche a pagare un servizio aggiuntivo? Esatto. Però qualcuno dice la RAI non offre qualità, Sky e Mediaset Premium sì. Sì, forse è vero, su questo non si discute, però insomma tutto alla fine del mese un abbonamento di qui, un abbonamento di là diventa poi pesante, insomma. Lei ha Sky o Mediaset Premium? Ho Sky. Quali programmi guarda su Sky? Ma guardi, soprattutto lo guarda mia figlia, guardo dei talk show, dei reality, se ci sono, oppure quei reality di cucina, queste cose. In caso di estrema necessità pensa che riuscirebbe a viverne senza? Sì, assolutamente. Ma io credo di sì, io ce l'ho ma lo guardo pochissimo, mio padre so che lo guarda per le partite, però ho visto volentieri delle foto di Simone Aventura in grande forma, io lo guardo veramente poco. Secondo te perché sì, perché ha senso pagare 19 euro al mese per avere Sky? Cosa dà in più Sky che il digitale terrestre non dà o internet? Guarda, questo non te lo so dire, nel senso che io il digitale terrestre non lo uso, perché a Salice prendo pochissimi canali, io guardo RAI 1, RAI 2, RAI 3, però Sky lo uso per registrare delle cose che non posso vedere, però devo dire che effettivamente offre delle grandi opportunità che magari rete commerciali o altri non danno. Quindi trovi che i programmi siano di maggiore qualità rispetto a quelli gratuiti del digitale? No, di maggiore qualità, però sicuramente offre più... È un'offerta più ricca? Sì, sicuramente sì. Quando guardi Sky, le poche volte che lo guardi, cosa guardi? Guardo le repliche di Sex in the City. Ah, giusto, perché Sky comunque avendo così tanti canali può permettersi di replicare anche vecchi telefilm. Sì, guardo quello, sono a Will & Grace, quando lo facevano, delle vecchie cose comunque che mi piace. Mi piace molto ricordare la televisione, quella fatta bene. Perché Mediaset? Eh, però questo è bello, ritrovare la televisione del passato sul satellite, questo è particolare. Perché non Mediaset Premium? Non lo so, non lo guardo, non ci ho mai pensato sinceramente. Grazie a tutti.